Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator Oggi giocheremo alla casa sugli alberi, dovremo pulire la casa sugli alberi, quindi andiamo subito a vedere Nel frattempo vi ricordo di mettere un mi piace al video, di iscrivervi al canale, di condividerlo e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco Oggi parlerò un po' più piano e un po' meno perché ho un fortissimo mal di gola Quindi fare un video su Power Wash Simulator è anche una buona idea, dato che generalmente non parlo molto in questi video Hunter Lode ci dice Probabilmente penserai che io abbia costruito questa sudica casa sugli alberi nel bel mezzo della foresta giusto per passare il tempo Ma in realtà l'ho fatto per cercare l'anello mancante Il problema è che mentre sono fuori a condurre le mie ricerche, a volte nel cuore della notte dei perdi giorno si spingono fin qui tra schiamazze inommaginabili Scagliando ovunque il fango ammai dorante A volte sono addirittura scivolato sulle scale per poi finire dritto oltre la balaustra Per fortuna ho i riflessi di una mangusta, quindi atterro sempre i piedi e non mi rompo mai le ossa Ma direi che è giunto comunque il momento di dare una bella pulita Grazie Hunter Diamo un'occhiata ai dettagli, c'è un bordello di roba da fare Mi riepilogo E andiamo Vi ricordo che ho comprato la Mega Ultra Power idropulitrice Prime Vista Pro Guardate, massimo sul superficiale, poi tutto comunque andando giù viene migliorato Non ho nessun accessorio per ora e non ho nemmeno l'ugello sapone Ho scoperto perché non potevo mettere i detergenti Perché serve l'ugello sapone e non puoi metterli ovunque Allora, l'obiettivo di questa zona è completare per prima le lanterne, se non sbaglio Quindi andiamo a cercarle, queste lanterne Andiamo a vedere quali sono, eh Barbe, chi il tavolino, no Allora, quella è lanterna, eccola qui Bisogna completare per prima queste Una Chissà quanto ce ne sono Io potrei aprire il menu e vedere, effettivamente Ah, quella non bisogna pulirla Dentro in casa non devo entrare Queste sono tutte lanterne, oddio, sono tutte lanterne queste Tra l'altro è fortissimo sto oggetto Ci metto davvero poco a pulire tutto Ottimo Eccone qui un'altra Vi ricordo tra l'altro che durante il video parlerò molto poco Per farvi godere appieno del rumore SMR di questo Idropulitrice Ed è lo sporco che se ne va Senza un inutile commentary Ok Ne manca qualcuna, eh Ce n'è per forza qualcun'altra in giro Vediamo quante lanterne sono Ne mancano tre Diamo un'occhiata se sono magari sugli alberi O sulle scale Eccone qui una E le altre due sono lì Spero di non aver fatto una gaff E che non fossero da pulire per ultime Vediamo se si sblocca l'obiettivo Ok bene Fatto Nella casa sugli alberi Completa per prima tutte le lanterne Ed ora possiamo darci la pazza gioia Pulendo tutto Eccolo Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.